Alcol, droghe, gioco d'azzardo, ma anche web, farmaci e vincolo di coppia, ovvero oggetti, sostanze e sentimenti con i quali si può sviluppare una relazione esagerata e morbosa. In altre parole si tratta di dipendenze patologiche che nel 2018 hanno toccato almeno 2000 abitanti della nostra provincia. È quanto ha rivelato il dottor Antonio Mosti, responsabile del programma Dipendenze Patologiche dell'USL di Piacenza, nell'ultima puntata della trasmissione Nel Mirino in onda su Tele Libertà. Attraverso l'intervista del direttore Nicoletta Bracchi, lo specialista piacentino ha ricordato le tappe principali della sua carriera. Mosti inoltre ha delineato l'emergente del territorio piacentino, dalle nuove sostanze psicoattive ai cannabinoidi sintetici. Tutte le sostanze utilizzando vari parametri, cioè quindi il danno clinico diretto, il danno sociale, il danno economico. È chiaro, la diffusione dice, vabbè, la sostanza psicoattiva più importante è l'alcol, è ovvio. Le repliche della puntata verranno trasmesse sabato alle 17.15, domenica alle 21.30 e lunedì alle 17.15.